Bella a tutti frienze e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite, ho appena finito ora le sfide della settimana 7 di questa season 8 La più difficile secondo me è stata questa qui della zipline perché non trovavo player sopra le zipline Comunque andiamo al nostro armadietto, vediamo un po' la schermata di caricamento, eccola qui, vita nel lusso Possiamo vedere la skin lusso che sta scendendo tramite una corda in questa fossa, non sappiamo bene ancora dove si trova Come potete vedere sotto di là ci sono delle monete e un forziere Comunque quello che a noi interessa è questa immagine qui in alto sulla sinistra dove appunto viene rappresentato un coniglio in legno Perciò ci spostiamo subito in game e vediamo dove si trova la stella segreta di questa settimana 7 Vi ricordo le modalità di gioco, qualsiasi, eccetto la modalità creativa e parco giochi Io la starto in Rista Squadre perché tanto è molto molto tranquilla Eccola qui, la vediamo gigante questa schermata di caricamento Seguitemi mi raccomando su questo canale perché vi spoilererò tra poco, tra qualche video dove si trova questo bottino sotto questa sorta di caverna Sarà molto molto interessante scoprirlo Mi sono appena buttato dal basso per raggiungere la stella segreta Mi raccomando tutti i nuovi iscrivetevi al canale, attivate la campanina delle notifiche Andatemi a seguire su Instagram, R4, lo squadro di attino basso, YouTube E inseritemi all'interno di supporto a un creatore come R4, lo attino basso, o MG Perché c'è un contest di 10.000 V-Bucks sul mio canale Perciò una volta che avete visto la stella mi raccomando eseguite questi passaggi Così potete vincere anche voi questi V-Bucks totalmente gratis Ecco qui il nostro coniglietto di legno che già conoscevamo Perché l'abbiamo dovuto affrontare in una di queste challenge di questa stagione 8 Ed ecco qui davanti a noi la stellona segreta di questa settimana La andiamo a cercare, eccola qui, trovo la stella della battaglia della schermata di caricamento 7 Ci siamo riusciti, ora possiamo tranquillamente fare abbandonare la partita o possiamo morire Tanto la stella verrà conteggiata ugualmente Signori mi raccomando perciò iscrivetevi al canale, attivate la campanina delle notifiche Andatemi a seguire su Instagram, R4, lo squadro di attino basso, YouTube E inseritemi all'interno del vostro supporto creatore, RASCO di attino basso, MG Per vincere questi 10.000 V-Bucks totalmente gratis Noi ci vediamo presto con altri nuovi video e... Le belle, mesami Noi ci vediamo presto con altri video e... Noi ci vediamo presto con altri video e... Noi ci vediamo presto con altri video e...